alessandro ravazzani di canon italia e la persona accanto a me questa è la nuova reflex di canon ed è la eos 250d chi meglio di alessandro può spiegarcela difatti lui la conosce bene e al momento della presentazione sa già tutto quindi ci spiega tutto esattamente intanto buongiorno e bentrovati a tutti oggi parliamo di eos 250d la reflex digitale con schermo orientabile più leggera attualmente sul mercato questo cosa vuol dire ci vuol dire che manteniamo le stesse dimensioni della parte esterna così come la 200d che era già stata apprezzata per la sua compattezza unendo sempre un peso molto leggero parliamo di 452 grammi quindi veramente una macchina super portabile tra l'altro oggi in questa versione l'abbiamo opzionata con un 24 mm efs pancake risulta quasi essere una bridge talmente compagno esatto esatto come ti dicevo lcdo orientabile quindi touch screen utilizzabile sia per la messa a fuoco sia per quanto riguarda tutta la navigazione del menu ovviamente altre caratteristiche riguardanti il design ovviamente essendo una macchina che cerca un utente quale chi vuole fare un passaggio ulteriore da uno smartphone da un tablet piuttosto che da una fotocamera compatta o magari fare un upgrade veramente da una camera base magari una nostra vecchia 1200d piuttosto che una 1300d o le attuali 4000-2000 cerca comunque un'interfaccia molto semplice molto immediata in maniera tale da aiutare l'utente a non essere intimorito da una fotocamera reflex ma ad avere un passaggio più fluido quindi comandi molto semplici e anche all'interno troviamo una funzione che è appunto un'interfaccia guidata che ci guida passo passo nelle funzioni se io dovesse andare a utilizzare ad esempio la modalità a priorità di tempi mi spiegherà che con tempi più veloci avrò un'immagine più congelata tempi più lunghi magari creerò un effetto mosso piuttosto che le stesse cose me le spiegherà nelle varie modalità sul display compare una piccola spiegazione guidata per aiutare l'utente a capire quelle che possono essere le funzioni della macchina oltre a questo poi abbiamo comunque l'assistente creativo classico delle nostre fotocamere reflex di fascia media così come delle fotocamere compatte di fascia elevata che ci permette di andare a modificare dei piccoli parametri quali la temperatura, quali il contrasto, quali la luminosità come se fosse veramente un'applicazione da smartphone e quindi ci aiuta a creare immagini uniche in maniera molto semplice senza dover avere quella dimestichezza che invece dovremmo avere se dovessimo farlo tramite i comandi manuali all'interno della macchina troviamo un sensore da 24.1 megapixel quindi il pari del sensore di una 200D in realtà è opzionato però con un processore di G8 il processore di G8 l'abbiamo già conosciuto con gli ultimi modelli mirrorless full frame EOS R ed RP e precedentemente ad esempio con fotocamere mirrorless quali la EOS M50 quindi è il medesimo processore delle ammeraglie esatto, è l'ultimo processore in termini di tempistiche e in termini di prestazioni parliamo di un processore in grado di avere maggior dettaglio nel salvataggio dei file JPEG parliamo di un processore in grado di processare al meglio immagini con bassa luminosità quindi file in condizioni scarse luci migliori e parliamo di un processore che comunque assicura anche su una fotocamera entry level 5 fotogrammi al secondo con lo scatto, con la modalità di autofocus in servo quindi scatto continuo, inseguimento del soggetto, 5 fotogrammi al secondo continuo un'altra cosa che non abbiamo detto è la connettività, connettività wifi e bluetooth quindi la possibilità tramite wifi di fare quei processi classici che già conosciamo quindi un download delle immagini che abbiamo scattato piuttosto che un live view remoto quindi da smartphone o tablet di quello che sta inquadrando la macchina e possiamo usarlo ovviamente come pulsante di scatto ed infine il trasferimento automatico quindi la possibilità di tenere l'applicazione aperta mentre io scatto direttamente dalla macchina, io scatto e tutte le foto che sto scattando andranno salvate su un dispositivo smart il bluetooth invece serve per sostanzialmente due processi fondamentali, anzi tre il primo processo è quello di avere sempre connessa fotocamera e smartphone o tablet in quel caso cosa potrò fare? potrò semplicemente accedere all'applicazione dello smartphone una volta che clicco sull'applicazione dello smartphone e gli chiedo magari un passaggio una qualche operazione con un passaggio dati importante ad esempio il download di alcune foto, di alcuni video ci sarà automaticamente uno switch dalla modalità bluetooth a quella wifi e a quel punto potrò fare il download con una velocità ovviamente con un traffico dati superiori di quello che potrebbe permettermi il bluetooth l'altra possibilità è la possibilità di mantenere sempre connessi i dispositivi anche quando la fotocamera è spenta quindi se io in un primo momento nella fotocamera avevo impostato la possibilità di essere accesa anche da remoto quando selezionato l'off a quel punto io accedo dallo smartphone quindi la fotocamera rimarrà nella mia borsa accedo alla fotocamera e potrò fare un download delle foto o visionare tutte le foto e i video che ho sulla mia fotocamera anche se questa rimane spenta nella mia borsa quindi non avrò necessità di estrarla non dovrò farla vedere in pubblico se magari sono in una situazione dove preferisco che la fotocamera non cada nell'occhio di qualche malintenzionato o altro e quindi questa è una seconda possibilità la terza possibilità è la possibilità di avere un GPS via mobile quindi io faccio le mie foto la macchina è sempre connessa tramite bluetooth al mio smartphone le coordinate dello smartphone inseriranno i dati GPS sulla foto quindi se io vado a ritrovarla esattamente quando andrò ad aprirla su alcuni programmi in grado di leggere i dati anche della localizzazione troverò anche la mia foto collocata dove l'ho scattata come vi dicevo sicuramente una dei plus di questa macchina è la possibilità di avere un'interfaccia molto semplice e molto intuitiva rispetto a Deus 200D abbiamo snellito quella che è la ghiera principale delle funzioni andando a selezionare solamente le principali e andando poi a trovare in dei sottomenu tutto ciò che invece ci serve di notizia o comunque comunicazione ulteriore la possibilità anche di avere un nuovo selettore per l'accensione, lo spegnimento della macchina ed eventualmente la modalità video nella parte superiore troviamo un'altra differenza questo pulsante DISP che troviamo qui a fianco al pulsante riguardante la sensibilità ISO cosa ci permette di fare? è un pulsante totalmente personalizzabile possiamo assegnare funzioni differenti ad esempio quella della profondità di campo dato che abbiamo tolto la profondità di campo dalla parte anteriore a favore appunto di un comando tutto con la semplice mano destra per quanto riguarda invece la parte posteriore della camera vediamo in realtà i comandi già noti quindi tutti quelli che siamo soliti trovare sulla nostra gamma di fotocamere Reflex Canon EOS ovvero quello che riguarda l'esposizione piuttosto che i punti di messa a fuoco la possibilità di lavorare con il pulsante per richiamare il diaframma quando dobbiamo andare a lavorare magari in modalità manuale dobbiamo regolare entrambe le funzioni quindi premiamo qui e poi lavoriamo con la ghiera principale che troviamo sulla parte superiore della camera il multicontrollo a quattro vie il pulsante Q7 e ovviamente il pulsante di rimozione delle foto piuttosto che il pulsante di accesso alla fase di review per quanto riguarda tutte le prese le connessioni presenti sulla macchina che troviamo a bordo troviamo un ingresso ovviamente per un microfono il terminale per collegare dei telecomandi remoti mentre sul lato destro troviamo una presa per quanto riguarda una connessione mini USB e un mini HDMI out per poter andare con il segnale HDMI su un monitor esterno o su un registratore esterno ovviamente l'LCD orientabile è touchscreen quindi possiamo andare a lavorare in qualsiasi modo per andare a posizionare il fuoco sullo schermo la cosa carina è l'assistente creativo ad esempio quindi la possibilità come vi dicevo di accedere a tutte quelle funzioni che possono essere un pochino più smartphone user di andare a modificare la nostra foto in base alla necessità io posso scegliere qualsiasi cosa posso lavorare ad esempio sulla saturazione posso andare a lavorare sulle tonalità posso scegliere di dare un tocco più freddo alla mia foto o più caldo se voglio la foto differente così veramente da rendere unico il mio scatto così con l'assistente creativo così come qualsiasi altra modalità ad esempio se io vado a modificare tra le varie aree del menu vediamo che vengono elencate le possibilità creative priorità di tempi soggetto più mosso piuttosto che un soggetto bloccato priorità di diaframma se voglio fare uno sfocato con un effetto bokeh piuttosto che un qualcosa dove tutto è nitido oppure piuttosto che l'esposizione manuale che ci dice tutto quello che ci serve per poter rendere la nostra foto al meglio per quanto riguarda l'ambito video ovviamente la novità di questa fotocamera è avere a bordo il video in 4K a 25p in questo caso ad esempio vediamo la selezione dei vari video possiamo passare quindi da un 4K a 25p alla modalità ovviamente full HD a 50p 25 o modalità più leggere inoltre è disponibile un'altra funzione che ci permette di riprendere a 120 fotogrammi al secondo in modalità in questo caso HD in modalità HD senza ovviamente il fuoco regolabile né la possibilità di avere il suono a bordo questo ci permette di fare degli slow motion poi riportati a 25 fotogrammi quindi avere un soggetto molto veloce ripreso in un semplice clip da 25 fotogrammi classico per quanto riguarda il 4K invece altre modalità di registrazione sono il timelapse quindi la possibilità di creare un timelapse in 4K una serie di foto una in seguito all'altra per quanto riguarda sempre il 4K abbiamo a bordo il frame grab ovvero la possibilità di estrarre dei singoli fotogrammi da ogni filmato che abbiamo registrato per quanto riguarda il full HD invece possiamo creare sia full HD a 50p sia a 25p e eventualmente applicare anche dei filtri in fase di registrazione quindi rendere già dei filmati unici in fase di ripresa grazie a tutti